Hai presente il detto, tutte le strade portano a Roma? Certo! Ecco, d'ora in poi sarà, tutte le strade portano a casa di Steph e Ferinichi! Ragazzi, come va? Io sono Ferinichi! Io sono Steph, che si chiama? Ecco! E siamo tornati nel nostro fantastico mondo! In questo episodio in particolare cercheremo di sfruttare il Wemery Table! Ok! Bellissimo, sì? Sì, il famosissimo Wemery Table! Che ormai conoscono tutti per costruire una strada che collegherà questa nostra casetta al mare Con la nuova zona in cui poi costruiremo una super mega villa! Esattamente, perché qui ormai non ci stiamo più, siamo davvero troppo troppo stretti con questo mare qua vicino Non ci aspettavamo di aver bisogno di fare una casa così grande E quindi abbiamo deciso di spostarci, di fare una casa più bella, più grande, in una zona ancora più figa Però vogliamo ottenere anche questa Perché comunque, diciamo che è il simbolo dell'inizio di questa sopravvivenza Quindi creiamo una strada da questa zona fino all'altra casa Secondo me... E così abbiamo pure la casa al mare! Io non vorrei dire, ma qui... Esatto! Cioè, capito? La casa vacanza! Non solo devi gestire un mondo, ti fai una super villa Ti tieni la casa vacanza per quando vuoi farti un bel bagno e prenderti un po' di sole Cosa vuoi di più? Sai che cosa vorrei? Una casa fatta a tutti di un rig table Non sarebbe molto utile Tante stanze, però molto utile Sarebbe bella però, ok? Sarebbe molto molto bella Prima di costruire la strada, però, vediamo un pochettino le abilità di Masory Che se vi ricordate ci servivano e dovremmo anche costruire il Quarry Eravamo rimasti fermi là? Esattamente Allora, voglio far vedere questo Mettendo i punti in Masory, sbrochi la possibilità di creare il Quarry Il Glass Working e lo Stone Working Quindi stai imparando tre cose diverse con una sola cosa A livello 1, impari anche il processo del cemento Dimmi che non è una figata Cioè ci facciamo una casa in cemento Voglio spiegare rapidamente questa cosa Poi andiamo a farci la strada così non ci pensiamo più E ce ne laviamo le mani Ok Praticamente Ferinichi ha imparato il libro di Masory Che abbiamo fatto tramite il research Imparando il libro ha imparato lo Stone Working Con lo Stone Working noi dobbiamo creare il tavolo da lavoro che si chiama Quarry Fare i mattoncini Tramite i mattoncini creare il libro per fare il cement processing Che ci permette di creare, diciamo, una fornace Dove fare i lingotti di ferro, d'oro, eccetera, eccetera Mi sono già perso a metà Anche i consolini Però consolini state davanti al schermo fate così Ok Steph Ok abbiamo capito tutto Abbiamo capito Siamo pronti Siamo pronti Ok Quindi strada Quindi Cambiamo discorso Metti a craftare il query A questo punto ci dobbiamo spostare nel nostro bellissimo tavolo da lavoro Un altro tavolo da lavoro? Come si chiama questo tavolo da lavoro? Wayne Rick Table Esatto No io non capisco come si pronuncia Wayne Rick Table È semplice Non capisco perché non lo capisci Esatto Wayne Rick Table Però Richiede Civil Engineering Ok Che non abbiamo Allora andiamo a cercare Ma perché ogni cosa ha bisogno di uno skill point? Cioè io Io non lo so Perché è più divertente Aspetta Dov'è? Civil Ma non lo troviamo nemmeno Civil? Cosa chiedeva? Eh non mi ricordo più Era Civil qualcosa Sì brava E dove lo troviamo? Non lo so Come sempre non ci capiamo nulla Quindi mettiamo a fare il libro di ingegneria Ok E vediamo se in questo modo risolviamo Messo a fare 15 minuti Speriamo bene Che bello Altri 15 minuti ad aspettare Allora nel mentre Ti faccio vedere un po' di cose Vieni Però nel mentre Io ti dico che è pronto il query Wow Se vogliamo provare a vedere un pochettino come funziona Vieni vieni Prendilo e piazziamolo qua Allora aspetta un secondo Me lo metto in barra Perfetto Sì 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 Dai che il query Servia a fare tante belle cose Lo spero Lo spero che poi non ci chieda altri libri Ma Requiring Civil engineering Esatto Perché hai piazzato lì? Perché ho misclicato No aspetta Toglila col martello va Ma che bello questo tavolo Vediamo cosa ci permette di fare Allora Brick Oh Il tetto in pietra Ma l'hai vista anche la strada in pietra? Sì ma quella c'era già anche dall'altra cara Ah non l'avevo vista Civil engineering Sempre sempre Ascoltami Ascoltami Ma l'hai vista che Aspetta L'hai vista che c'è proprio la Il forno? Sì Il forno è bellissimo Ci vuole cucina ma è bellissimo Ok ok Cos'è treasury? Non lo so Ti permette di mettere le tasse? Ma no dai le tasse no Bellissimo No comunque Allora Praticamente meal Becchieri E kiln Questi sono tutti e tre interessantissimi Allora meal e bakery Sono per cucina Ci permettono di fare pane Torte e cose del genere Esatto Il kiln invece È proprio la fornace Che ci serve per i lingotti Quindi con 20 di pietra Possiamo mettere A fare anche questo Per 30 minuti E finalmente siamo arrivati a poter fare i lingotti Che non mi ricordo a cosa ci servivano Però ricordo che ci servivano Quindi dobbiamo essere felici Allora ci siamo persi in tutti questi ragionamenti Però poi quando ti ricorderai che cosa servono Tu vai in casa e fai Ah cavolo la fornace Quindi adesso li posso fare Esatto Tanto comunque serviranno secondo me anche Sia per fare cose particolari Sia per la costruzione della nuova casa Saranno fondamentali Esatto Per tante cose È una cosa che va fatta per forza Allora guarda la minimappa Ti faccio vedere dove è la nostra nuova casa Ok Allora Però vedo bene perché ho l'asta del microfono Comunque dimmi Praticamente percorriamo da dove siamo Ok Andiamo alla sinistra Dove c'è questo stretto con i due mari Ok Tutto lungo Qua sarà tutta la punta della nostra strada Vai Tutto lungo Tutto lungo Tutto lungo Sali verso l'alto E ti metti dove Vicino alla riva che vedi di quel mare Che se non ti sta con sotto e sopra una foresta Sì ho visto Ok questa sarà la zona della nostra nuova casa Eh ma lontanissima Molto spaziosa Con tanta legna vicina Molto lontana oltretutto Molto lontana Eh sì 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 Infatti la strada sarà infinita secondo me Eh assolutamente a voglia Manca poco ci siamo quasi Mi stavo per adoramentare Alleluia 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 Il Keen Workerord Che ci dovrebbe servire appunto a fare i lingotti Quindi secondo me stiamo lavorando davvero bene oggi Eh stiamo facendo un sacco di cose insieme Sì stiamo facendo un sacco di cose Stiamo facendo Sempre un cantiere casa nostra oggi No davvero ma stiamo facendo un sacco di progressi Sulle attrezzature che ci servono Stiamo davvero facendo un sacco di cose 10 secondi mancano Non vedo l'ora Ti prego fai che serva per civil Lo spero Civil engineering Lo spero Perché altrimenti Siamo nei guai Siamo totalmente nei guai Ogni nostro piano viene distrutto Altrimenti Ci siamo Allora vado Vai mettimelo anche in pubblico Per favore che voglio Ok Imparare anche io l'ingegneria Ti metto una paginetta Ho fatto Ti prego spera per il meglio Engineering Primitive mechanics Refining Industry Non trovo Eccolo c'è 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 Hai molti punti ancora? 22 22 Ok Allora metti 5 punti in road construction speed Così le costruisci più in fretta Ok Ok Sì perfetto E poi metti 5 punti in quello sotto Perché così ti costa il 22% in meno Fare i pizzi di terra Perfetto Ho fatto tutto Mi sono rimasti 11 punti Che bello E quanto costa quello del costo in più? Ancora? 9,9 Tutti e due Metti quello per farlo costare ancora meno Così dobbiamo prendere Il meno terra possibile Il terzo è 29 punti Cioè i primi due ti fa fare easy Esatto Tacca sempre questi skill point improponibili Allora vieni qua mia signora Per fortuna che siamo arrivati a capire Che serviva per quello Vieni al win rig table Ho avuto davvero paura Allora Dovremmo avere un po' di terra depositata da un po' di parti Ok Allora dammi un attimo e te la porto Allora Qui ne abbiamo E poi hai visto che c'è anche la rampa Che figata Possiamo farci strade in carita Per le parti alte Certo 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 Infatti pensavo di farne Allora qua non c'è terra Qui abbiamo della terra Storage Yes Qua è pieno Hai visto che per fare poi la strada di asfalto Ahà Chiede ingegneria civile Chiamiamola così A livello 3 3 3 Tantissimo Tantissimo Non facile Comunque possiamo farci anche quella di pietra Quindi Cioè Non per dire No Non adesso Non adesso Sto dicendo Sì sì in futuro ci sta 35 minuti per farne 40 Magari iniziamo con 10 Che dici E che cambia Cioè così fai Perché inizi poi a costruire la strada Inizi a costruirla Poi aspetti Ne metti a fare altri 10 Capito No non cambia nulla Metti 40 Togliamoci il dente No ma non possiamo aspettare tutto sto tempo Dillo al nostro Wemrick table Wemrick table No allora aspetta Prima di metterli a fare Non li hai ancora cliccati No Ok Metti l'altro Anche gli altri 9 punti Per fare più veloce Ok Così diminuiamo almeno un altro pochettino anche la durata Perché Sto per piangere Comunque è bello il tuo nuovo look Complimenti Sei molto bellina Grazie Con questa ciccia Si nota un po' Mentre il tuo macellone Di bandana Controlliamo se sono cresciuti i nostri alberi Dato che è passato un altro po' di tempo potrebbe essere sbucato qualcosa E' a voglia Guarda quanti alberi ci sono qui Sembra una giungla di quella di Tarzan Non riusciamo più a muoverci da quanto si sono moltiplicati Sono morti vero? Allora io prima di tutto non mi ricordo dove li abbiamo messi perché non li ho più ritrovati Però se non li abbiamo visti crescere suppongo che siano morti Cioè credo che dovrebbero essere già iniziati a crescere Io non mi ricordo proprio il punto Ho provato anche a riguardare mentre editavo il video Dove era il punto Però non mi è chiaro allo stesso Li abbiamo proprio persi Ci siamo autoconfusi Sì Comunque ho contattato gli sviluppatori del gioco Per chiedere informazioni su un po' di cose Tra cui appunto come piantare gli alberi Quindi adesso gli sviluppatori ci risponderanno stasera Quindi sapremo esattamente tutto quello da fare per piantare gli alberi Spero lo sappiano anche loro Per creare i vestiti Quindi insomma un po' di cose nuove arriveranno Ce li stai scocciando Sì 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 Fra un po' li chiedo Ma entrate nel server da darci una mano Venite anche voi a giocare Mamma mia Pensavo di averle perse Mi stavi facendo sudar freddo Uff Che mamma Spavento incredibile Guarda che belle Oh ma c'è un bufalo gigante Ciao Ciao bufalo Allora Non l'hai visto così da vicina Guarda qua che bello Questo è praticamente pieno di legna E qua c'è un altro po' Ok perfetto Non dico che possiamo fare tutta la casa Ma comunque un buon livello E quindi vuoi fare la casa qui sopra? Sì perché secondo me Guardi è una bella pianuretta Sì Ok Che comunque possiamo poi anche livellare un po' nel tempo Quindi allargarla Eccetera eccetera E abbiamo qua vicinissimi gli alberi da questa parte Alberi vicini anche dall'altra E qua davanti l'oceano Sì Quindi abbiamo comunque una vista a mare Ma senza stare sulla spiaggia Perfetto Ti piace? Mi piace un sacco Sì 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 Oh che bello Le piace? Iniziamo a costruirla? Eh sì Hai pensato una forma con qualcosa di particolare oppure niente? Ovviamente no Facciamo un pentagono Eh? Sì? No No? No? Non ti piace il pentagono? No grazie Sono belli i pentagoni Facciamo allora un ottagono Allora Un decadono Smettila Devi fare qualcosa di serio Su Ok ci siamo ci siamo ci siamo Chiudi Ahah Arrivo Chiudi Che poi oddio è uscita anche più grande di quanto immaginassi Un po' esagerato Ma ci serve grande Perché tu vuoi andarci leggera Ok Eh perché io ho pensato Servono duemila stanze Facciamo tutte le stanzine Capito? Perché Sì Servono in continuazione Quindi inutile andare Il gioco lo richiede Quindi per una volta possiamo esagerare Allora Alziamo Iniziamo ad alzare Pa 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 Comunque servirà Molta più legna Di quella che ho formato Bravo Altro che farla di mattoni Guarda Ma quando mai È troppo grande Non avremo mai voglia di cambiare il materiale Secondo me È pebellino il legno Eh non mi dispiace Sì da non è male È carino I mattoncini ovviamente È un tocco di classe in più Sono un tocco in più Quanta legna c'è rimasta? Hai controllato? No non l'ho controllato Perché ne sto ancora mettendo Quindi non l'ho vista Allora Te lo dico io Qua 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 Adesso abbiamo ancora un centinaio Non è male Guarda che forse riusciamo comunque Almeno ad arrivare al terzo livello Siamo riusciti a fare già tre livelli Guarda che non è male per nulla Adesso bisogna Mi è rimasto uno di legna No io ne ho altri nove Infatti inizia a fare un minimo di soffitto Ok Così ce lo lasciamo già un pochettino fatto Per ricordarci Di quanta legna ancora ci serve Per fare tutta questa zona Per non esultare troppo di felicità Allora quindi praticamente Questo è la base così iniziale Allora qua facciamo finta che ci sia la porta Per ora Dato che abbiamo bisogno di uscire Quindi piazzo anche questi Dicevo quindi questa qua è la forma della nuova casetta Che secondo me è molto molto figa Adesso dobbiamo fare tutto il tetto Dopodiché una zona con le scale E tutto il secondo piano Eh assolutamente Che sarà assai difficile Quindi molto molto figo Vi faccio vedere anche meglio un po' la zona Se ci riesco Qua abbiamo il mare super bellino Lì abbiamo tutta una foresta gigantesca E da quella parte c'è un'altra foresta Ve lo faccio vedere dalla minimappa Perché l'altra foresta è un po' distante Vedete una forestina qua Abbastanza piccola Che va poi sul mare E una foresta qua Che è abbastanza più grande Con tantissimo mare Quindi secondo me La zona è fighissima E la nuova casa mi piace molto Sì mi piace molto Mi piace molto come zona Ci sta tutta La mia domanda è In tutto questo Qualcosa avrà finito di essere craftato Secondo te Lo spero vivamente Torniamo a casa e vediamo Sì Ok È talmente gigante Che a conto pare Non riusciamo nemmeno a piazzarla Mi dice che si blocca tutto E non riesco a me Ve la facciamo vedere però Guardate Guardate Oh Popopopopopo Boom Cioè Dove la mettiamo? Non lo so Ci sta avvenendo il dubbio Che non ci stia in altezza Nel senso che sia al soffitto A bloccarla Perché se leggete dice Non la puoi mettere qua Perché è bloccato Che cosa è bloccato però? Eh non si sa che cosa è bloccato Ma è bellissima Cioè non vedo l'ora di piazzarla In una zona della casa Ma questa la mettiamo Sicuramente nella nuova casa Proveremo Ok Questa è la nostra stradina Abbiamo anche sistemato un po' Tutta l'erbaccia Che c'era in zona Sei pronta a vedere il carretto? Sì Sei pronta a vedere il carretto? Questo mi dà una bella gioia Boom Oh Che bellissimo Ma è proprio bellissimo Allora praticamente Io mi dovrei mettere qua Aspetta Sei paccatissimo Non hai capito Ok E mi muovo così Sono bellino? Aspetta No 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 Che sei caduto È caduto Vabbè lo puoi riprendere Non ti disperare Non ti disperare Spiegami cosa ti è saldato in mente Volevo salire sopra Così mi trascinavi Dai Almeno una cosa divertente Come mi ci tolgo? Stiamo solo lavorando qui Almeno una gioia ogni tanto Aspetta Comunque quando lo prendi Sì Sei buggatissimo È praticamente dal busto in giù Sei sottoterra Ah sì? Tu cammini solo Che bello Sali sopra il carretto Vediamo se fa No non ce la facciamo Vediamo se ce la facciamo Ok Sono sopra? Sì No C'è qualcuno che pesa troppo Chissà chi è Vedi che sei bassissimo Io uso solo la tua testa Non vorrei dire chi è che pesa troppo qua Smettila Comunque il monocarretto è carinissimo Dai Facciamolo vedere come funziona Qui fate la E E abbiamo appunto le cose che si possono mettere qui dentro E appunto poi le si trasporta È bellissimo Secondo me Bello dai Sì sì Meraviglioso Non mi ricordo quanto ha di peso Massimo Però ce l'ha scritto da qualche parte Comunque di sicuro possiamo trasportare molta più legna Molta più terra Molta più petra E quindi comunque Petra Pietra E quindi comunque è molto figo Dai Secondo me Un sacco di passi avanti Abbiamo fatto il query Abbiamo fatto il kiln Abbiamo fatto la strada Abbiamo fatto il carretto Abbiamo imparato a creare un sacco di roba Abbiamo imparato anche l'ingegneria Abbiamo imparato anche l'ingegneria Abbiamo anche fatto l'inizio di questa casa Cioè scusate Non vorrei vantarmi troppo Però Steff e Ferinichi Numeri uno È una registrazione di due giorni e mezzo Però Non avete idea Quanto stiamo registrando? Dico 1 ore 30 Ok Proprio sobrio Sì Sobrio 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 Però va bene dai Mi piace poi questa casa Perché già riesco a vedere come sarà E mi piace davvero tanto Mi piace questa zona L'architetto riesce a immaginare fin da subito Sì esatto Ti dicevo mi piace anche questa zona Perché proprio la trovo molto meglio rispetto Sì Alla vecchia casa sul mare Mi piace davvero molto di più Quindi sono felicissima Non vado l'ora di continuare Però che se riesci così Lasciateci un like E se è la prima volta che vedete il nostro video Potete considerare il video di iscrivervi per non perdervi gli altri episodi Ciao E alla prossima Ciao 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 ciao